E nel vivo a San Salvo la campagna elettorale per il ballottaggio del 26 giugno. La sfida è tra Emanuela De Nicolis e Fabio Travaglini. Al primo turno Emanuela De Nicolis ha ottenuto il 47,90% dei consensi, pari a 5.098 voti. Fabio Travaglini il 42,71%, pari a 4.546 voti. Il terzo candidato, Giovanni Mariotti, si è fermato al 9,39%, pari a 999 voti. La De Nicolis, consigliera comunale di maggioranza uscente, si pone in continuità con l'amministrazione uscente, come ha ribadito nella nostra trasmissione. La continuità sarà la nostra forza, perché noi abbiamo un percorso alle spalle di dieci anni di buona amministrazione, di amministrazione concreta, determinata, che ha portato degli ottimi risultati. San Salvo è cambiata negli ultimi dieci anni, insomma i risultati sono un po' sotto gli occhi di tutti. Tanti progetti sono in divenire, abbiamo tanti progetti per cui abbiamo già la copertura finanziaria, per cui ci auspichiamo di poterli portare a termine noi. Quindi in continuità significa proseguire questa buona amministrazione con concretezza e determinazione, avendo, come ripeto, già le risorse, quindi avendo già amministrato, abbiamo anche l'esperienza e la possibilità di portare a termine delle cose iniziate senza perdere tempo. Per Fabio Travaglini invece la parola d'ordine è discontinuità con l'amministrazione uscente. Il tema principale è di sicuro il recupero di un ruolo forte di San Salvo, un ruolo forte contrario a quello che ci ha visto isolarci negli ultimi anni. Noi abbiamo perso rappresentanti a tutti i livelli, grazie all'amministrazione uscente, grazie alla candidata sindaca De Nicolis, noi abbiamo perso consiglieri regionali, abbiamo perso consiglieri provinciali, abbiamo perso rappresentanti sansalvesi nei luoghi che contano. Noi dobbiamo tornare a dialogare con il territorio, dobbiamo essere il capofila di questo territorio, della bella valle del Trinio e del Sinello, ma soprattutto dobbiamo essere un polo attrattivo che diventa la porta sud dell'Abruzzo, che torna a fare sviluppo, che torna a fare economia pensando all'ambiente, pensando alla salute dei cittadini, ma soprattutto pensando al futuro.